L'ondata di maltempo semina di nuovo morte e terrore in Calabria. Teatro dell'ennesima immane tragedia è San Pietro Lametino. Le vittime una giovane madre Stefania Signore 30 anni e uno dei suoi figli Christian di appena 7, disperso il suo bambino più piccolo Nicolò di appena 2 anni. Il dramma si è consumato nella serata di ieri quando la giovane madre è impiegata in un call center di San Pietro Lametino dopo aver preso i bambini a casa dei nonni aveva imboccato la via per il rientro a Gizzeria. Sotto una pioggia torrenziale la sua auto, questa alfa mito, è sbandata. Avvertendo il pericolo sarebbe scesa per trovare riparo dalla piena del torrente Cantagalli che esondando ha colpito quella zona di periferia. Stefania, Christian e Nicolò sono stati così travolti dalla piena del torrente. Il marito non vedendo rientrare la moglie e i suoi bambini ha subito dato l'allarme ma le ricerche sono state vane fino a questa mattina quando è stata ritrovata l'auto con ancora le frecce accese. A circa un chilometro quindi sono stati recuperati il corpo senza vita della giovane mamma e quello di uno dei suoi due bambini. Le forze di soccorso sono adesso impegnate nella spasmodica ricerca del bimbo più piccolo, nella speranza, seppur flebile, che sia ancora vivo. Da San Pietro Lamettino per la C News 24